La storia geologica del Lazio è una storia lunghissima e non la vedremo nel dettaglio tutta quanta, certamente, però abbiamo bisogno di un quadro di riferimento. Chi conosce qualcosa di geologia, sa cosa sono queste immagini che ho messo qui, che adesso commenterò. È una storia, quella che ha portato all'Appennino, il Lazio in particolare poi. È una storia che ha visto succedersi nel tempo all'azione di mari, oceani interi, una storia di vulcani, di fiumi e anche di ghiacciai. Allora, non ci vuole spazio, ma anche ci vuole tempo per queste cose. Il tempo, che ha portato alla realizzazione della catena appenninica, copre complessivamente almeno circa 200 milioni di anni. Quindi le cose erano molto diverse quando tutto questo è cominciato. Allora io vorrei portarvi con questa immagine a 250 milioni di anni fa. Questo era l'aspetto della Terra, allora un po' semplificato, ma è corretto. Vedete che assomiglia poco alla Terra attuale, quello che si vede è un supercontinente che i geologi dell'inizio del secolo scorso, Reagan in particolare, intuì, ricostruì e chiamò Pangea, il tutto terra. Ovviamente le terre occupavano un terzo circa della superficie, il resto era occupato da oceani. Un grande oceano che prende il nome, fu chiamato così, Pantalassa, cioè il tutto mare. Supercontinente, non è una cosa eccezionale. Nella storia della Terra questo è l'ultimo supercontinente che si è formato, ma in precedenza ne sono stati ricostruiti almeno tanti tre, forse quattro, se ne riesci a individuare. Più indietro si va nel tempo, minori sono le quantità di dati, di informazioni che sono accessibili per poter ricostruire situazioni così antiche. Ricordiamoci che la Terra ha 4.600 milioni di anni dietro le spalle, quindi questi 250 milioni di anni che a noi sembrano tantissimi e in realtà nella storia della Terra sono ben poco. Cosa c'è di particolare? Perché partiamo da lì? Perché movimenti, spostamenti di grandi strutture che chiamiamo crosta terrestre, crosta emersa, fatta di rocce un po' particolari, rocce un po' meno dense di quelle sottostanti, quel che è il mantello della Terra, sul quale galleggiano letteralmente, concetti che probabilmente già conoscerete, ma sono i quali non possiamo soffermarci, grandi estensioni di questa crosta si muovono in risposta a movimenti interni del pianeta, si spostano e spostandosi cambiano il volto della Terra e sono frammenti che girando su una sfera finiscono per incontrarsi, per entrare in collisione, saldarsi fra di loro e a quel momento ci arriva ad avere delle fasi in cui tutta la Terra, tutta la crosta di tipo continentale, quella che emerge dalle acque, poi forma una struttura continua, ecco il supercontinente. Allora, 250 milioni di anni fa la Terra ha raggiunto questa forma, Pangea, tuttoterra. Gran parte, vedete, di questo continente era intorno all'equatore, poi c'era un settore però che arrivava al polo nord, al polo sud e ovviamente era coperto di ghiacci, così come accade oggi. Hanno lasciato le tracce, hanno corroso, eroso, inciso, spianato, aree vastissime e oggi le tracce di quella grandissima glaciazione sono ridotte ben poco, come i ghiacciattivi e il ghiacciattivo dell'Antartide, ma le tracce che hanno lasciato oggi le troviamo, ma non soltanto vicino al polo sud, stanno in India, in Africa, in America Meridionale. Cosa è successo? È successo che dopo la glaciazione, dopo questa fase, queste terre hanno ricominciato a muoversi, si sono frammentate. Vedete nell'immagine a destra, in piccolo, i frammenti di quel pangea hanno costituito blocchi separati e questi sono i continenti attuali. Attenzione però, non è che il Gondwana l'ha fatto di quei frammenti, come spesso mi sento raccontare, è viceversa. È come se il Gondwana, cioè l'antica pangea totalmente, fosse un vaso e quelli che vediamo nell'immagine a destra sono i cocci, che ne verranno fuori quando tutta questa struttura comincia a frammentarsi, quindi il Nord America, l'Africa, l'India, l'Antartide, eccetera. Allora non esistevano, c'era un'unica, basta a terra. La frammentazione ha portato i continenti che conosciamo oggi. Allora, se possiamo andare avanti, intanto guardate bene quell'area in cima, in cui ho messo un cerchio, quella è l'area in cui successivamente succederà quello che porterà alla formazione delle Alpi e anche dell'Appennino. Eccoci, ci siamo. Questo è il momento in cui comincia la frammentazione. Vedete come sta cambiando. Un frammento grande diventerà il Nord America, non lo è ancora, un altro frammento è il Sud America. Ma questi si staccano da un frammento più grande che oggi noi chiamiamo Africa. Perché? Perché nel frammentarsi si apre un corridoio che viene invaso dalle acque e diventerà l'Oceano Atlantico, quello settentrionale e quello meridionale, che è tutt'ora in continuo allargamento. D'altra parte, un altro grosso settore, l'Asia sudorientale. Guardate che mentre si muovevano, si frammentavano, si è aperto un profondissimo golfo, un oceano, chiamato dai geologi Tetide. E in particolare, osservate che la Tetide è molto spostata verso l'Equatore. Vedete, è compresa dall'Equatore e in pratica a 30 gradi di nord, cioè il tropico settentrionale. Il punto importante è quello che vedete segnato con le due frecce, perché c'è un settore, un piccolo settore, che è cominciato ad aprirsi, cioè la crosta si è mossa, stirandosi secondo la direzione di quelle due frecce e aprendosi al centro con quello che sarebbe oggi una dorsale oceanica, cioè si è cominciato a formare un piccolo oceano. La L indica il suo nome, Oceano Ligure Piemontese, così l'hanno chiamato i geologi, perché in Ligure e in Piemonte si trovano attualmente i resti di quel oceano, 150 milioni di anni fa. Vedete come abbiamo fatto un bel salto da quando c'era il grande continente. Il settore, che qui ho indicato in cibo con quelle due frecce, sotto è ricostruito, un blocco di diagramma per dargli un po' di prospettiva, vedete un settore che isoliamo, dove avrà tutta la storia che porterà alle Alpi e all'Appennino, aveva verso nord un frammento di quella che oggi è il centro Europa. A sud un piccolo continente, poco emerso, ma comunque a pelo d'acqua, che viene chiamato Adria, perché i feresti sono attualmente sul fondo dell'Adriatico, ma che in origine, lo vedete dall'immagine superiore, si è staccato dall'Africa. Quindi da un lato c'è un frammento dell'antica Africa, dall'altro l'Europa. In mezzo si apre un oceano. In questi movimenti si aprono, si distaccano, l'Africa si sta allontanando dall'Europa e dal Nord America, si allarga il fondo dell'oceano, cresce un nuovo fondo oceanico, con i meccanismi che oggi sono ben conosciuti, e c'è una dorsale oceanica. Quello è l'oceano Ligure, che si apre come indietro le due frecce. Che succede? Che nella parte europea, la costa dell'antica Europa, che oggi la parte di lì corrisponde al centro Europa, si forma a margine una costa, e si accumulano grandi quantità di sedimenti, perché i fiumi stanno smantellando il vecchio continente dell'antichissima Europa. E dalla parte opposta, dove c'è Adria, è ugualmente l'Africa a due passi, i sedimenti vengono portati in mare, si accumulano e si formano nuovi sedimenti, i depositi che diventeranno rocce. Ecco, queste rocce sono quelle che il prisma, si chiama prisma sedimentario, quell'accumulo di sedimenti che stava verso la posizione dell'Europa, diventeranno le Alpi. L'altro, appoggiato sulla costa antica di Adria, diventerà invece la struttura dell'Apennino. L'oceano? È l'oceano destinato a scomparire, perché tutto questo vedrà una fase in cui, dopo un lunghissimo periodo di accumulo di sedimenti e dell'oceano che si è andato allargando pian piano, qui siamo a 150 milioni di anni, ma quando arriviamo a circa 60 milioni di anni, i meccanismi cambiano completamente in profondità, e i due settori che ci sono allontanati cominciano ad avvicinarsi. Il risultato è che l'oceano piano piano scomparre, viene inghiottito in profondità, per chi conosce qualche termine, va in subduzione, cioè la crosta oceanica sparisce in profondità, i sedimenti vengono schiacciati, accatastati, spinti un po' su un margine, un po' su quell'altro, e quello che viene fuori sono la catena alpina e la catena appenninica. Però la catena appenninica comincia in realtà dal punto di vista geologico con le alpi calcarei meridionali, e quindi nel discorso, nel filmato, nel video, comincio a parlare delle dolomiti. Le dolomiti poi non è un caso, guardate che le dolomiti hanno una struttura, una storia, per molti aspetti, forse poi se mi ricordo accenderò meglio, vicini a quelle dell'Ascia. Tutto è vero che parecchi anni fa con alcuni ho visto qui fra gli spettatori, allora eravamo tutti un po' più giovani, abbiamo fatto una mostra mettendo a confronto reperti e ricostruzioni delle dolomiti con reperti e ricostruzioni dell'Ascia. Sono storie parallele. Allora, cominciò dal dolomiti, poi via via le alpi calcarei meridionali e poi tutto l'appennino, e quindi parlando dell'appennino, come adesso vedete in questo primo video, e a un certo punto io cito le dolomiti e non vi preoccupate, è solo perché in precedenza, nella parte precedente di questo video, si parlava delle dolomiti, così come accenderò poi le falde. Le falde sono delle strutture, sono, per esempio, non so, i Monti Lepini, per conto loro, sono una struttura, significa un grosso settore di rocce che si sono formate su un fondo dell'oceano che quando vengono deformate cominciano a muoversi, scivolano su un settore a fianco, lo sormontano, e a loro volta sormontano altri settori. Ecco, si fa un accumulo di grossi ammassi di strati rocciosi e quella è una falda. Lo vedete, lo richiamerò subito all'inizio perché partiremo subito dall'aspetto che ha, per un geologo, la struttura dell'appennino. Possiamo cominciare? Devo fare ESC? Muoviamoci da Ovest e incontriamo una successione di falde. Vedete la rappresentazione, quella che abbiamo visto anche nelle Alpi. Bisogna fare i dovuti confronti, sono più piccole queste falde, come spessori, come dimensioni, però hanno fatto dei lunghi percorsi perché, vedete, delle dimensioni vanno dal tirreno fino a quasi all'Adriatico. Sono state chiamate anche scaglie imbricate, perché messi come gli imbrici le tegole di un tetto, una sull'altra. E allora ci sono alcune che emergono e sono segnati alcuni dei nomi per localizzarle nello spazio, quelle del Morrone, poi la zona della Marsica, poi la catena Simbruino-Erni che è al centro dell'appennino centrale, poi Monti-Lepini e lì siamo ormai in vista del tirreno. Vediamo con un po' di ordine le successioni che vengono coinvolte perché lì abbiamo riconosciuto una struttura falde che da zone occidentali si è mossa verso zone orientali, diciamo da un ovest, sud ovest e verso un nord-est. Benissimo, quella è la vergenza dell'appennino. In questa immagine facciamo un piccolo passo indietro, cioè raccordiamoci con le Alpi Calcarei settentrionali, perché noi siamo al di qua del grande lineamento periodriatico assegnato in rosso, quindi abbiamo una storia in qualche modo comune con quella delle Alpi Calcarei meridionali. Certo, l'andamento del vecchio bordo, il vecchio margine continentale doveva essere un po' diverso, perché così come lo vediamo oggi, ricordate che le Alpi Calcarei meridionali sono delle fasce che poi sono rovesciate verso sud, invece l'appennino è disposto con una direzione un po' diversa. Vuol dire che il margine di Adria, la parte che è stata poi coperta dalle Alpi Calcarei meridionali era rettilinea, all'incirca rettilinea, per tutto il tratto che va dal Friuli fino alla Lombardia e circa il Premonte, ma il resto invece cambiava direzione e si muoveva verso sud e quindi hanno un andamento diverso, la catena ha un andamento diverso poi anche per altri motivi che vedremo in seguito. Comunque non è tutto un grande margine rettilineo, altrimenti avremmo trovato l'appennino in fila con le Alpi Calcarei meridionali. I terreni più antichi che affiorano sono riconoscibili facilmente dai fossili come a età. Lo vedete qui, lì sulla destra, vengono da quell'area della Toscana, alla sud dell'Elba, grosso modo, e sono conglomerati, arenari, e guardate il contenuto di felci, cioè c'è una flora antichissima, è del Paleozoico, questa ben conosciuta, viene dalla zona di San Lorenzo a Vaccoli, dove è conservata in un museo, perché è meraviglioso l'aspetto di questi fossili perfettamente conservati, sono una roccia scura e queste forme sono più chiare. Questo era il paese più antico, c'è poco altro di basamento, la ricchezza di affioramenti, di basamenti, quel permiano, quel carbonifero, che abbiamo visto in Donomiti, qui non esiste. Pochi documenti, non che non ci fosse, il sondaggio Puglia 1 ci dice che c'è il permiano sotto, ma che è tutto stato ricoperto dai terreni successivi, dalle falde successive, quindi sono piccoli punti in cui emerge qualcosa del basamento, lo conosciamo qua e là anche da indagini per le ricerche petrolifere, soprattutto. Allora, dedichiamoci a quello che c'è in superficie. L'Italia centrale, stiamo esaminando, la prima centrale, in cui abbiamo visto quelle falde prima schematizzate, accompagnano essenzialmente due tipi di rocce, definiscono due facce, se c'è due ambienti diversi, piattaforma carbonatica e bacino pelagico. Lo vedete in questo blocco di diagramma, questo schema molto semplice, si chiamano piattaforme carbonatiche degli altifondi, quindi pelo d'acqua arrivano, in cui c'è una fortissima produzione, in gran parte, adesso lo vedremo, a opera di organismi viventi, di carbonati. I carbonati sono il carbonato di calcio o la dolomia, il carbonato doppio di calcio e magnesio, essenzialmente sono i calcari, come rocce. Ce ne sono con spessori di migliaia di metri, però si formano tutti quanti in un pelo d'acqua. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che man mano che si formano, la zona continua a sprofondare, va in subsidenza, e fin tanto che questo meccanismo produce nuove quantità di calcare, si mantiene la morfologia in superficie. Questa è una piattaforma carbonatica, adesso ne parleremo con qualche dettaglio in più. e poi a largo di queste piattaforme carbonatiche, anzi dove queste si esauriscono, perché hanno dimensioni notevoli, le nostre dell'Apennino hanno anche 100 km di larghezza, quando queste finiscono il mare si approfondisce, c'è quello che si chiama grembiule di questa scarpata, anzi della soglia, perché dove finisce la piattaforma carbonatica si parla di soglia, è una zona ricchissima di organismi viventi, adesso ne vedremo qualche esemplare, il mare si approfondisce, il fondo scende, i detriti, i materiali si accumulano su questa specie di, chiamato grembiule della soglia, proprio per quello, e si va verso un bacino marino più ampio, più libero, più profondo, un mare aperto, non necessariamente abissale. Lo schema a questo si riferisce a un tratto nella Pino Centrale, diciamo Lazio-Abruzzo, piattaforma carbonatica, nella Sabina, quindi siamo ormai nel Lazio sudentrionale, verso Umbria e Marche, grande ambiente pelagico. Differenze? Ebbene, lo vedete qui, questo è un tratto, oggi, dei prodotti della piattaforma carbonatica, il Monte Velino, sono 2500 metri, guardate, si intravedono gli strati, sono rocce stratificate, calcari, e ognuno di quegli strati, quando si è deposto, era a livello dell'acqua, per ad acqua, poi evidentemente è sceso, perché altri lo hanno sostituito e ricoperto. Questo è andato avanti per tempi lunghissimi, a cominciare dal periodo, all'inizio del periodo giurassico, e proseguire fino al Cretaceo e anche oltre. I fossili, caratteristiche, eccole, diffusissime le rudiste. E questo cosa ci dice? Questi animali, lo vedete in immagine lì a destra, e lo vediamo anche in questo campione, questi sono dei lamelli branchi, come se fossero, non so, una vongola, ma mentre la vongola ha le due valve molto simili, qui una delle valve è diventata un cono, si è allungato, l'altra valva è un opercolo, cioè operava così, si muoveva così, come vedete in quello schema, e l'organismo abitava all'interno. In quell'immagine vedete anche come vivevano, formavano degli aggruppamenti, saldati l'uno all'altro, quindi strutture robuste, che resistevano bene, perché c'era l'acqua molto agitata, a pelo d'acqua, quindi in acque agitate, e formavano quindi delle ammassi, ce ne sono quantità incredibili, in tutto l'appennino carbonatico, calcario, che vedremo occupa gran parte dell'Italia centrale e meridionale. Andiamo un po' più in là, usciamo dalla piattaforma carbonatica, ecco come si presentano oggi i rilievi che derivano da questa nuova zona, siamo nei monti Lucretili, siamo nella zona della Sabina, rilievi molto più dolci, meno aspri, perché? Perché le grosse successioni di carbonati di calcio hanno un'evoluzione, quando emergono, quando vengono deformati, escono fuori, molto particolare, calcare nelle nostre aree significa carsismo, e quindi sviluppo di altopiani, balloni, molte più brusche e aspre come forme, qui invece i terreni sono decisamente diversi, è il dominio dei terreni di tipo, sì calcare, ma calcare marnoso, marnoso silicatico, quindi sono delle argille intercate dentro, e l'ambiente pelagico è dominato da altri tipi di fossili, completamente differenti come questi, che sono ben noti, e sono le ammoniti, in queste immagini vedete delle ammoniti, riconoscete quelle forme a spirali, erano ampiamente diffuse nei mari al loro tempo, navigano, si muovono verso l'alto, verso il basso, cambiano profondità, oggi c'è un lontanissimo parente, erede, che è il Nautilus, ben conosciuto, quello del Pacifico, qui c'è anche un altro fossile interessante, quella specie di siluro lì, è il rostro, i calamari, le belemniti si chiamavano, oggi di queste forme, sì ci sono le lontani eredi, ma quella a fare lì, quel rostro, è la punta dell'osso di seppia, quindi l'evoluzione è cambiata moltissimo, ma in quel periodo erano diffusissimi, si trovano facilmente anche nelle nostre montagne, torniamo allo schema, allora da un lato queste grandi piattaforme carbonatiche, ma vaste, 100 chilometri, dall'altro è pelagico, e all'orlo, all'orlo, quello che è chiamato soglia, il punto critico, ma il punto più interessante, dove il mare è sempre mosso, agitato, dove quindi c'è acqua chiara, limpida, nutrienti che possono arrivare, si forma la soglia. A Rocca di Cave, poco lontano da Roma, c'è un rilievo che ospita un frammento di questa soglia, la soglia è poco estesa rispetto al resto, perché deve dare delle condizioni continue, di vita molto favorita, insomma, dalle correnti, per il cambio dell'acqua, e prosperano i coralli, lo vedete nell'immagine, e questo è un frammento di uno di questi campioni, che vengono dalla zona Rocca di Cave, e sono coralli coloniali, esacoralli coloniali, accompagnati poi da una quantità di organismi simili, lo vedete in questa ricostruzione, questa è un'immagine attuale, di qualcosa di equivalente, i colori allora non sono conservati nei fossili, ma erano la stessa cosa che di quello che vediamo qui, quindi coralli, ma poi altri organismi che vivevano con gusci, che si attaccavano a un substrato, ci sono molti tipi di alghe, una fauna è una flora ricchissima di specie, molto animata, ricca di vita, ma anche resistente, perché? Perché la scogliera è stata posta a continui percussioni da parte del mare, cioè mareggiate, correnti, ma anche tempeste, anche violente, viene facilmente demolita, i frammenti si spargono alle spalle della scogliera, ma quello che resta è ricominciato a capo, si attaccano uno sull'altro, e questa massa continua a crescere, cresce in altezza, e se per esempio rallenta questo sprofondamento della piattaforma, l'abbiamo visto anche in Donomiti, quello che succede, se rallenta, hanno bisogno di avere ossigeno, acqua sempre pulita, allora i coralli invece di costruire direttamente, non ha più spazio, si allargano, si spandono verso l'esterno, quindi si allargono queste soglie, e se invece sprofondano più rapidamente, crescono verso l'alto, le soglie si restringono, nell'appennino tutto questo è stato ricostruito in vari tratti, le soglie che avanzano, che retrocedono, perché tutto questo è durato milioni e milioni di anni, questo ambiente, ecco adesso un'immagine attuale, di come potrebbe essere una soglia, da un lato verso sinistra, verso il mare più aperto, a destra più interna, che è la laguna, quindi dove l'acqua è sempre azzurra, l'acqua è quella delle reclamme di viaggi nel Pacifico, ma il Pacifico era a casa nostra, questa è un'immagine attuale, che può ricordare come erano fatte queste piattaforme, l'orlo bianco che si vede, è dove i frangenti incontrano, le onde quindi si disfano, diventano spuma, dove c'è la soglia, il blu è la parte invece del mare più profondo, il resto, quelli colori più chiari, bianchi, è la vastissima area di laguna, larghissima, fatta di fanghi finissimi, l'abbiamo già descritto in un ambiente simile per le Dolomiti, qui era molto più esteso, quelli erano più piccoli i gruppi delle Dolomiti, queste, ripeto, sono dimensioni enormi, ci sono anche delle isole sparse qua e là, fanghi finissimi sul loro fondo, e quello che mantiene in vita tutto, quello che alimenta, sono le variazioni fra l'altro alla bassa marea, canali di marea che portano l'acqua all'interno, e poi la fanno defluire, e così via. Altro esempio, questo è ben conosciuto, guardate, nell'immagine di sinistra, questo è un pezzo delle BAMAS, nell'immagine a testa si vede l'isola di Andros, che è la parte emersa di questa grossa piattaforma, la riga rossa indica la presenza di una soglia continua, è quella fatta di organismi costruttori che si oppongono verso il mare, alle spalle invece la laguna, lo vedete nel profilo sottostante. Ecco, uno che è più simile alla nostra piattaforma, ce ne sono simili quelle delle nostre vere piattaforme, quindi un orlo è la soglia, l'esterno è il mare più scuro, è quello più profondo, e l'interno è la zona più profonda, meno profonda, ma sempre guardate un metro d'acqua, all'interno è un'area di più. Quella laguna, la laguna era frequentata, anche da noi, vicino a Rocca di Chiave, abbiamo trovato i resti di Tito, il dinosauro italiano. Tito è perché quelli che l'hanno abbattezzato, sono i paleontologi del Museo di Milano, hanno voluto ricordare Roma, l'imperatore Tito, ma anche perché questo è un organismo piccolo, il nostro era un giovane, ma questi sono titanosauri, cioè fra le bestie più grosse che siano vissute. Ecco un'immagine ricostruita, di un tratto di quella che è oggi, diciamo, la zona alle spalle di Rocca di Chiave, quindi dei passi da Roma, la laguna e questi che passeggiavano lasciavano orme, le orme si trovano più facilmente che non i loro resti, ma questo accade spesso nell'Appennino. Ecco adesso in sintesi, questa è l'Italia centrale, l'Appennino centrale, le aree in verde rappresentano questa piattaforma carbonatica, una è quella l'azio labruzzese, che oggi è smembrata in frammenti, e quindi tante falde sono diventate, perché era molto larga, che costruiscono i monti, le pini, o sono orunci verso il Tirreno, i Simbruini e Erdici al centro, e poi i monti Velino e Sirente, giù giù verso la Marsica, quelle macchie rosse sono i pezzetti di soglia conservati. Rocca di Chiave l'abbiamo messo in evidenza, perché è quello che abbiamo ricordato adesso. Cioè lì sono ancora conservati tratti della soglia che nella deformazione di queste grandi piattaforme è stata invece frantumata, frammentata e dispersa. Verso nord, l'azzurro indica la presenza invece di mare aperto. Vedete che c'è una linea proprio di separazione, di facces, facces si chiamano questi ambienti quindi, fra la parte umbro-marchigiana, poi vedremo la sua estensione, e la parte laziale-abruzzese, si scende giù giù, fino in vista del Molise. Come è venuta la deformazione, la formazione di queste falde? La catena si è formata quando queste estensioni che comprendevano in queste aree specifiche parti di facces di mare aperto, quelle con le ammoniti, per capirci, e parti invece di queste scogliere, la deformazione è avvenuta con falde che sono mosse da ovest verso est, grosso modo. Ma cosa succedeva? Lo vedete nel diagramma superiore, indicato con A. La catena avanza, col suo peso si forma una vanfossa, la vanfossa comincia a essere riempita di materiali, che è segnati con quel colore arancio, e la vanpaese rimane tranquillo, sommerso, ma è tranquillo. Nel diagramma B, la catena avanza ancora, le falde già mosse si rimuovono, la vanfossa del caso A viene investita, viene sollevata, deformata, e tutto l'edificio si spinge più avanti, allora la vanpaese è un po' più avanti che viene sprofondato, e si forma una nuova vanfossa. Con questo meccanismo, orogeno che avanza, la vanfossa che si forma, e poi la vanfossa che viene deformata perché l'orogeno avanza ancora, si forma la catasta di falde che sono separate fra di loro da questi livelli arenaci, appunto qui quelli antichi sono quelli in arancione, in giallo, e la vanfossa attuale, quella che abbiamo tuttora, perché il meccanismo non si è ancora esaurito nelle nostre aree. Ecco un risultato, qualche risultato, queste sono sezioni, questa è una sezione del nostro appennino lungo la galleria del Gran Sasso, che ci ha fornito numerosi elementi di controllo, e quello che vediamo sono colori diversi, rocce di età diversa, qui in gran parte sono rocce, un po' di quelle piattaforme, poi anche invece di rocce pelagiche, quelle linee blu, una linea interrotta blu, vedete, con una freccia blu che ne indica la direzione di movimento, quindi è verso l'Adriatico qui, è verso Teramo, sono le linee di scivolamento di una falda sull'altra, quindi qui in pratica, vedete il corno grande, quella è la parte più alta, del Gran Sasso, la linea è sotto la verticale del corno grande, vuol dire che tutto quel settore, sopra la linea blu, è scivolato come indica la freccia, rispetto a quello sottostante, quindi è una falda che avanza, e quello, il materiale che c'è nella zona di Teramo, vedete, è una vecchia vanfossa che è stata completamente deformata, certamente quando si sono deposti quegli estratti erano orizzontali, in fondo di mare, oggi guardate come sono piegati intorno a Teramo, la vanfossa è più in là adesso, è in pieno Adriatico, come abbiamo visto prima in quel profilo della sismica. Le linee rosse, e questa è una fase successiva, è accaduto quindi, ed accade, perché ancora non è esaurito, che tutto questo sistema di avanzata, di falde, crea un edificio pesante, ma poi questo comincia a crollare nei singoli tratti, cioè c'è un collasso, quelle linee rosse sono le faglie di collasso, chiamate anche faglie dirette, cioè di distensione, e sono quelle sismiche nell'Appennino, capite perché l'Aquila che sta lì vicino ha avuto e continua ad avere questa alta sismicità. Questo è un profilo dello stesso tipo, ma fatto un po' più a nord, a sinistra Norcia, Castelluccio, il Monte Vettore e la Laga. Vedete sotto il Monte Vettore, sulla destra, la linea, blu, con la freccia blu, vuol dire che tutto con la massa che c'è da quel punto verso sinistra, verso Norcia, sono resti, questa volta è il bacino pelagico, sono le rocce che ricontengono le ammonite, tanto per capirci, che quindi più a nord dell'area che stavamo esaminando in precedenza, prima Lazio, adesso siamo a piena Umbria, e tutto quel settore è scivolato verso est, montando sopra i resti di una vanfossa, che è quella in colore marroncino, e sono i monti della Laga, che anche prima abbiamo visto nella planimetria. Questo è l'Appennino, è tutto fatto in questo modo, anche verso mare, l'ultimo pezzettino che emerge fuori, una grossa catena montuosa, che però, vedremo poi perché, non è più ben visibile come le altre, ne smuga fuori solo la sommità, che è il Monte Sorate, un rilievo ben conosciuto, perché si vede benissimo anche da lontano da Roma, è fiancheggiato su un tratto dalla Valle del Tevere, c'è l'autostrada che lo avvicina, mentre la direttissima Roma-Firenze lo ha attraversato, vedete quella linea bianca nella base di questo che si chiama blocco-diagramma, è proprio il percorso della galleria che ha permesso di controllare come era fatta questa struttura, perché fuori, uno vede nella campagna romana, sabbie, argille, tuffi, dappertutto, poi improvvisamente viene fuori quest'isola, è stata un'isola formalmente, come forma in tempi recenti, ma invece, in passato, questa è nata come una colonna, una lunga dorsale, formata di falde, vedete il taglio, lì abbiamo tagliato questo blocco-diagramma, l'abbiamo aperto per far vedere com'è fatto all'interno, il Monte Sorate è un blocco che è scivolato dalla zona tirrenica verso sinistra alla zona triatica verso destra, ma è montato sopra un'altra falda, quella dove c'è il paese di Sant'Oresta, che a sua volta è montata su una falda ancora, quella più piccola, noi col treno passiamo sotto tutto questo edificio, ci sono carsismo dappertutto, il treno, la galleria ha attraversato una strisciugina bianca che scende dal blu, è indicata lì nel blocco del gramma, quella di sinistra, uno dei tanti, dei numerosi cavità carsi che sono pozzi veri e propri, perché in gran parte è calcare, dunque un'altra di queste dorsali è la più vicina al mare, che poi però non è più alla quadra delle altre, ma è sprofondata, la storia, infatti c'è qualche complicazione che poi vedremo, eccoci quindi quello che stiamo esaminando, vedete la vanfossa, poi gli orogeni, via via, tutte le falde dell'orogeno e poi la costa tirrenica che ha qualche complicazione.